Per fortuna le gare si sono svolte due regate condizionate ovviamente dal vento. Sì, sono state due regate particolarmente impegnative per tutti gli equipaggi. Abbiamo fatto una prova con due bastoni, un'altra abbiamo dovuto dare una short, abbiamo ridotto il percorso perché il vento aumentava. I ragazzi si sono comportati benissimo, abbiamo avuto qualche ritirato perché sotto raffico ovviamente le condizioni diventano davvero complicate. Ma fa parte del gioco, il gioco è questo. L'importante è che tutti si siano divertiti. Possiamo dire a questo punto che il campionato è salvo perché bastava una sola prova per la validità del campionato. Lo aspettiamo domani e dopodomani, speriamo di farne tante altre. Ma ancora una volta questo campo di regata si manifesta difficile e complesso per quest'anno. Sulla classifica dei doppi c'è un piccolo giallo. No, non è un giallo, fa parte anche quello del gioco. È una protesta, c'è un concorrente che ci ha detto arrivando all'arrivo che protestava con un altro atleta per delle violazioni evidentemente delle norme di regata. Vediamo, le regole ci dicono che deve concretizzare e formalizzare la regata, la protesta. Quindi attendiamo quest'ora che ci rispetta lui per formalizzare la protesta, dopo di che si discuterà e poi se avrà ragione ci sarà una nuova classifica. Due parole sui prossimi giorni, ci sarà sempre vento, forse un po' più forte rispetto a... Purtroppo sì, purtroppo sì, ci sarà, è previsto brutto tempo, sicuramente domani tantissimo vento e domenica purtroppo è prevista onda. L'onda è di più complessa gestione rispetto al vento, però si dicono previsioni perché non sono certezze, quindi vediamo un attimino cosa ci può. Anche oggi sembrava difficile ma poi si accorta. Alla fine ce l'abbiamo fatta, quindi va bene così. Abbiamo fatto due prove, sono state molto divertenti in quanto c'è stato molto vento, anche raffiche superiore ai 15 nodi, però con poca onda e ciò ha reso la regata molto divertente in quanto appunto con l'onda sarebbe stato molto più difficile in quanto oltre ad avere l'avversità del tanto vento avremmo avuto pure l'avversità dell'onda. Fortunatamente oggi siamo riusciti a fare due prove e per questo già la regata è valevole, quindi la vera senza esclusi è salva. Nei prossimi giorni sì, sicuramente il vento rinforzerà. Infatti domani sono previste raffiche superiori ai 20 nodi, la nostra classe per regolamento non può superare i 15 nodi per uscire, quindi probabilmente domani non si potrà uscire. Però sarà sempre una festa in quanto la vela senza esclusi principalmente è una riunione di tanti circoli che si danno appuntamento ogni anno qua a Palermo.